Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A, siamo qui con Cristian. Ciao ragazzi. Ciao Cristian. Ciao Luca. Ciao. Allora, perché con le ragazze che non mi interessano sono sciolto e con quelle che mi attirano sono impacciato? Allora, questa è una cosa che ho sentito tantissime volte, tantissime volte, no? Mi ricordo addirittura di ragazzi che con le ragazze che reputavano non interessanti, non attraenti, addirittura finirono per trattarle male. Ok? Male. Mentre con le ragazze belle o che interessavano loro erano bisognosi. Quindi fenomeno sconvolgente che ho già visto più e più volte. Diciamo che in questo caso l'uomo con una ragazza, come dire, non attraente, non bella, verso la quale non ha interesse, è molto più tranquillo, cioè menefreghista rispetto al risultato finale, no? Quindi è molto disinteressato ed è la ragazza stessa che a volte prova a tirare l'attenzione dell'uomo. Mentre con la ragazza che gli interessa è talmente teso, talmente con l'aspettativa, con oddio chissà cosa dovrò dire, cosa dovrò fare, eccetera, che è tutto costruito, condizionato dalla sua estetica, non riesci più ad essere se stesso e la ragazza scappa via. Ok? Quindi bisogna imparare a padroneggiare questa sorta di stato emotivo e mentale e essere se stessi anche con la ragazza bella, ok? Non avendo paura di perderla, perché è quella che condiziona maggiormente l'uomo. Grazie. Un saluto.